Signori buongiorno, oggi è giovedì, già sul fuoco il nostro fantastico ragù, aspettando le polpette Stamattina partiamo dal nostro fegato freschissimo Poi passiamo agli imparati, cordon blei, cotoletta, spinacino e birba e la nostra cotoletta di vite Signori siamo verso le bombe caloriche, il nostro soffritto appena chiuso freschissimo La costoletta di maiale, la sugna e i ciccioli, la fracosta ed eccolo qua il nostro involtino cotto e fior di latte appena chiuso Ed eccoci alla salsicciata, iniziamo subito con i bocconcini col provolone del monaco Poi passiamo alla salsiccia a punta di coltello con fior di latte di vico, la girella, fiarielli e fior di latte La nostra toscana, ormai la trovate sempre Salsiccia a punta di coltello classica e la nostra cervellatina Signori noi siamo pronti, aspettando le polpette a ragù Amici cari, il naufragare mi è dolce In questo mare La palma della chiusura va al nostro involtino cotto e fior di latte Tenero gustoso, si presta a varie cotture Anche nel ragù va bene Buona giornata a tutti, a domani Don't know what the kind